ciao a tutti ragazzi buongiorno oggi in realtà è match day io preparo in anticipo questo video perché c'erano alcune cose che volevo discutere insieme a voi per tutto quello che è venuto fuori in queste settimane in questi mesi soprattutto in questi giorni con anche le motivazioni della sentenza che io ho già commentato per quelle che sono le mie interpretazioni che sono puramente soggettive personali e ora invece la palla passa agli avvocati della juventus che andranno ad architettare la difesa la domanda però che tanti hanno fatto in questi giorni è perché il tifoso della juventus se la prende con la figici se la prende con la corte se la prende con le ptv invece che prendersela con i dirigenti che hanno fatto errori allora io credo di aver già risposto ampiamente a questa domanda in più di un'occasione ma voglio cercare di fare un video puramente dedicato a questo argomento alla questione e parto da un presupposto io credo che ci siano diverse colpe per quanto riguardano i dirigenti della juventus e credo di poter individuare in due personaggi due colpe molto molto grosse e importanti ovviamente per quella che è sempre la mia lettura dell'argomento parto da un presupposto credo che la gestione di paratici sia stata disastrosa disastrosa dal punto di vista economico finanziario eppure sportivo perché noi siamo arrivati a distruggere quel livello che avevamo di distanza quel gap di distanza significativo sul campo con le squadre che stavano dietro c'è stato un momento che ho veramente pensato è impossibile totalmente impossibile che prima di altri dieci anni riescano a venirci a prendere sul campo e invece cosa succede che l'inter vince uno scudetto con Antonio Conte l'anno dopo il Milan vince uno scudetto con Stefano Pioli molto probabilmente quest'anno lo scudetto lo vincerà il Napoli insieme a Luciano Spalletti la juventus ha vinto l'ultimo scudetto con Maurizio Sarri significa che negli ultimi quattro anni quattro squadre differenti in Italia possono andare a conquistare a festeggiare uno scudetto con quattro tecnici differenti quattro squadre diverse e questo in realtà rende il campionato italiano un campionato aperto poiché tutte comunque le squadre in questo momento sono lì a livello proprio di di competitività interna alla Serie A quest'anno il Napoli sta veramente dominando il campionato l'anno del Milan era abbastanza combattuto tra Inter e Milan l'anno dell'Inter l'hanno praticamente stravinto l'ultimo nostro scudetto con Sarri l'abbiamo abbastanza giochicchiato tra Lazio e Inter poi c'è stato il covid di mezzo e non dimentichiamoci invece l'ultimo di Allegri vinto in cui la Juventus ha super dominato quindi il campionato italiano che nelle ultime 5-6 edizioni ha avuto abbastanza uno storytelling particolare eppure io continuavo a pensare ci sono stati dei momenti che ho veramente pensato l'arrivo di Ronaldo su tutti come fanno a venire a prenderci quindi io sono abbastanza convinto che chi ha lavorato per costruire una Juventus sempre più forte via via più forte abbia sbagliato e questo va riconosciuto a Fabio Paratici perché comunque era lui che andava a gestire la parte sportiva della Juventus scegliendo quali acquisti e quali sessioni andare a fare lato Juve per cercare di migliorare la Rosa già l'anno in cui arriva Sarri il mercato è un mercato un po' particolare e lì in covid non c'era ancora e quindi due domande iniziano a venire fuori però ovviamente bisogna risalire la piramide gerarchica per capire perché è vero che Paratici ha fatto degli errori ma Paratici in quella posizione i pieni poteri a Paratici sono stati dati da un'altra figura che è Andrea Agnelli entrambi sono indagati ovviamente per tutto quello che sta accadendo alla Juventus entrambi erano dirigenti della Juventus all'epoca dei fatti e per me l'errore madre è proprio quello ma l'ho già ribadito tante tantissime volte in vari video che ho fatto sull'argomento intitolati tutti gli errori della dirigenza bianconera secondo me l'errore madre è stata è stato l'addio la separazione da Beppe Marotta senza poi trovare un sostituto di Beppe Marotta perché sostanzialmente è stata data una promozione interna a Paratici Marotta e Paratici svolgevano due attività ben differenti in passato Paratici si occupava della gestione dei talenti della gestione dei profili sportivi si è sempre detto che Paratici avesse addirittura un talento naturale in questa cosa secondo me questa cosa è confermata perché fino a che si occupava dell'identificare i calciatori era molto bravo ma il tenere i conti a posto il tenere i conti in ordine ragionare dal punto di vista finanziario quello probabilmente un'area non di sua competenza quindi se viene promossa una persona dove ci sono sempre state due figure che hanno sempre lavorato molto bene e viene messo a fare qualcosa che non di sua competenza ovviamente risponde chi ce l'ha messo e quindi credo che col senno di poi si possa dire tranquillamente che l'errore madre nasce da Andrea Agnelli che saluta Beppe Marotta e al suo posto dà una promozione forse troppo ingombrante forse con poca competenza vera a Fabio Paratici ma questa è una cosa che diciamo ormai da da anni io ricordo che è una delle prime dei primi punti interrogativi dell'addio di Marotta è stato e adesso che ci mettiamo e mai avrei immaginato vedere Paratici rimasi anche abbastanza perplesso probabilmente disse vabbè lo sapranno loro che cosa stanno facendo col senno di poi è stata probabilmente la scelta più scellerata in assoluto dell'intera dirigenza Andrea Agnelli perché secondo me bisogna riconoscere i meriti perché Agnelli è riuscito a prendere la Juventus in una situazione molto complicata a renderla una squadra a tratti leggendaria che vince nove squadre consecutivi fa due finali di Champions League e tanti altri piastamenti interessanti va a tesserare campioni stadio di proprietà seconda squadra squadra femminile insomma ci sono tantissimi punti positivi della presidenza Andrea Agnelli e ovviamente tante ombre sul finale io dicevo ragazzi è un po' che vi dico che secondo me la presidenza Andrea Agnelli è raggiunta a un punto di non ritorno infatti ricorderete che la sera delle dimissioni quando ancora non sapevamo le vere motivazioni delle dimissioni disse sono abbastanza contento perché credo che fosse già stato superato una sorta di punto di non ritorno nella gestione Agnelli e non mi sorprendeva nemmeno perché io era tempo forse davvero anni ormai che dicevo secondo me da qui a poco si cambierà si andrà ad aprire una nuova pagina di Juventus ovvio non mi immaginavo in una maniera così brusca e scusa in una maniera così negativa però sentivo proprio l'esigenza di voltare pagina perché eravamo arrivati davvero a un punto di non ritorno con decisioni che erano diventate via via sempre meno comprensibili io credo che il maggiore errore della presidenza di Agnelli sia stata una sorta di delirio di onnipotenza eravamo arrivati a un punto di non ritorno in cui vincere era veramente la cosa più scontata del mondo non si poteva nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di non vincere addirittura gli allenatori che vincevano venivano accompagnati alla porta e si voleva far sempre di più ora non ve lo nasconderò non voglio essere ipocrita il giorno in cui Andrea Agnelli a Villar Perosa all'arrivo di Ronaldo dice la Champions deve essere un obiettivo al pari dello scudetto della Coppa Italia mi sono gasato terribilmente perché mi sono gasato assolutamente non posso dirvi il contrario però credo anche che lì sia veramente iniziata una sorta di caduta verticale della Juventus perché c'eravamo dimenticati tanti valori dello sport io ho visto tanti tifosi non festeggiare gli scudetti o quelli me li sono sempre goduti apro e chiudo parentesi per fortuna perché in questo momento temo che per un po' qualche trofeo non lo vedremo quindi magari anche stasera dalla Coppa Italia con la Lastra non andrà nemmeno troppo bene non ne ho la più pallida idea vedremo però ho proprio la sensazione che per un po' non si vincerà la paura e il timore quindi per fortuna mi sono sempre goduto con gli scudetti però lo sport ci ha sempre insegnato che vincere non è scontato e questa è una cosa che Allegri ci ha sempre ribadito in tante conferenze stampa e forse anche internamente alla Juve hanno dato per scontato alcune cose e probabilmente oggi il tifoso della Juventus per tornare competitivo davvero a vincere uno scudetto per sognare veramente di respirare nuovamente quell'area beh tornerebbe indietro volentieri ripeto io per fortuna quelli me li sono sempre goduti ma credo che anche dentro a Juventus si sia respirata un'area da delirio di onnipotenza io ricordo la conferenza congiunta Agnelli Allegri dell'addio di Massimiliano Allegri del primo addio di Massimiliano Allegri in cui Agnelli dice una frase che mi è rimasta in testa io non decido io delego poi ovviamente ognuno si assumerà le proprie responsabilità se le cose dovessero andare male l'ho sempre letta come un non avrei esonerato Allegri ma voglio fidarmi delle persone a cui ho dato potere nella fattispecie Fabio Paratici quindi mi fido di Fabio Paratici perché comunque in questo momento gli ho dato pieni poteri di ragionare di operare dentro la Juventus quindi mi fido della strada e prendo Sarri saluto Allegri e prendo Sarri dovesse andare male pagherà lui ora poi è difficile parlare da questo punto in avanti degli errori della Juventus perché secondo me degli errori c'erano già stati prima e ve li ho già elencati vi ho detto non sostituire duratamente un certo tipo di dirigente con un altro andando a attribuire delle pressioni oltre che dei compiti dell'operatività che non erano di competenza ma quello stesso dell'oridione in potenza probabilmente è arrivato anche nella testa di Fabio Paratici ora si potrebbero aprire una valanga di altarini nascosti perché si potrebbe parlare di Sarri che parla di squadra nell'abile di Sarri che nella conferenza stampa pre Juventus Leone dice i dirigenti le Juventus non sono incompetenti sanno già che cosa hanno fatto di Sarri che non festeggia insieme alla squadra lo scudetto vinto quindi tutti i segnali che andavano nella direzione dell'allenatore sa già quale sarà il suo destino possiamo ragionare su Andrea Pirlo che viene scelto prima per l'Under 23 presentato per l'Under 23 e poi incaricato di dirigere la prima squadra io sono stato tanto fan di Andrea Agnelli tantissimo fan di Andrea Agnelli del primo Andrea Agnelli e ricordo del giorno in cui annunciamo Pirlo dico se uno come Agnelli ci mette lì uno come Pirlo che non ha mai allenato probabilmente ci ha visto qualcosa che noi non siamo in grado di vedere sono stato tanto fan del primo Agnelli quanto deluso dagli ultimi anni di Agnelli deluso terribilmente e lo dice uno che avrebbe tranquillamente confermato Sarri perché se fai un progetto insieme a Sarri poi non ha senso dopo un anno solo un covid di mezzo uno scudetto comunque vinto interrompere il tutto poi è ovvio che al tifoso brucia quando esci dalla Champions brucia maggior ragione se esce agli ottavi contro Lione che non giocava da mesi che era settimo in Ligan dà ancora più fastidio però probabilmente c'è stata poca lucidità e razionalità e allora la domanda che viene spontanea a farsi è la testa di Sarri la fatta saltare Paratici o Agnelli in quel contesto perché è vero che uno aveva poteri ma l'altro aveva comunque poteri su quello che aveva poteri perché poi la scelta di Pirlo mi sembra un'altra scelta da parte di Agnelli e poi c'è ovviamente in quella situazione il discorso Suarez che è una figuraccia a tutti gli effetti poi Juventus si è assolta ma tu non puoi fare mercato e non renderti conto che ci sono tot slot di extracomunitari da rispettare è una regola del mercato non può chi fa al mercato della Juventus fare questi errori e lì veramente ho iniziato a tremare e a dire ma dove stiamo andando è vero c'è un solo mese per fare questo calciomercato ma è un errore veramente imbarazzante e lì mi sono veramente reso conto del fatto che Paratici non sarebbe durato ancora tanto perché quello è un errore clamoroso e non dimentico non dimentico Agnelli che dice Suarez chiedete a Paratici ha fatto tutto lui vedete frizioni perché comunque le società sono fatti di rapporti interpersonali ve l'ho detto tante volte ve lo continuerò a dire per tante volte perché questa è la verità io immaginavo addirittura un Paratici fuori dalla Juventus insieme a Sarri perché l'aveva scelto Agnelli l'aveva detto poi ne pagherà le conseguenze ma c'era un solo mese di mercato per via del covid bisognava fare tutta la svelta e allora quel giorno in cui il derby di Torino a Forte dei Marmi Agnelli e Allegri si ritrovano insieme a me è sembrata una storia già scritta e ricorderete che pubblicai un video dicendo il prossimo allenatore da Juventus sarà Massimiliano Allegri ne sono convinto e ricordo anche di aver fatto uno short in cui vi dicevo la prossima Juve mesi prima ve la racconto non ci sarà Paratici non ci sarà Ronaldo ci sarà Di Bala ci sarà Allegri e vediamo se ci sarà Nedved perché non ho ancora capito bene o male che cosa fa Nedved e quali sono i rapporti interpersonali tra Nedved e Paratici perché ricorderete anche che si discuteva l'anno di Pirlo e si diceva Nedved e Paratici ha litigato nel parcheggio dello Stadium perché uno voleva esonerarlo voleva confermarlo sono tutte cose che col seno di poi inizia a mettere in fila e dici ma sembravano assurde ma siamo sicuri che punti interrogativo non siano accadute veramente e quindi c'è stato questo delirio di onnipotenza del forse davvero accecati dal nostro moto vincere non è importante l'unica cosa che conta però volevamo vincere ancora di più volevamo farlo ancora di più e probabilmente abbiamo fatto come Icaro che si è avvicinato troppo al sole ha sciolto le ridicera e poi siamo crollati e allora io leggo anche le intercettazioni alcune delle intercettazioni che sono citate qui e altre intercettazioni che comunque sono venute fuori perché comunque Cherubini dice abbiamo abusato dello strumento delle plusvalenze artificiali ora io in realtà penso che sia anche sciocco mettere in dubbio che Juventus abbia voluto fare dei milioni di plusvalenza tot milioni di plusvalenza io credo che Juventus abbia voluto farlo e quindi come fai a dire no non li volevano fare certo che li volevano fare certo che li volevano fare come tutte le squadre che si danno a priori una volontà di fatturare tot milioni di plusvalenza per sistemare i bilanci perché non prendiamoci in giro questa è sempre stata una pratica che abbiamo visto abbiamo sempre visto squadra abusare questa cosa anche oltre la Juventus ora il fatto che Juventus sia stata punita che ci sia stato un processo che sia stato incastrato con delle prove e delle prove che sono scaturite e vedremo se saranno davvero così solide da un'inchiesta non sportiva ma da un'inchiesta penale perché Consob ha acceso una spia perché Juventus è quotato in borsa si è accesa la procura di Torino e ha dato un materiale a un procedimento sportivo che di sportivo secondo me ha poco e niente perché è un vero e proprio processo su cui poi ci basiamo per giudicare una squadra con un regolamento sportivo io vi ho già spiegato che secondo me comunque le punizioni non tornano con quelle che sono le argomentazioni e le punizioni del regolamento sportivo ma questo è un altro discorso a parte perché secondo me Juventus le voleva fare quelle plus valenza io non ho problemi a dirlo secondo me Juventus voleva farli quei milioni di plus valenza poi probabilmente la pena che è stata inflitta la Juventus non mi torna esattamente che sia quella se questo è il reato contestato però questo è una cosa che sicuramente Juventus affronterà nel ricorso non sono avvocato e lascio fare a loro questa è solamente una mia lettura io leggo una frase che mi fa sia sorridere che rabbrividire che è come siamo arrivati qui è un dirigente della Juventus che dice questa frase non mi ricorso un dirigente o proprio lo stesso Andrea Agnelli ho tirato fuori questa cosa qui che è l'evoluzione del bilancio della Juventus dal 2010 al 2021 è un articolo di 90 min che ha pubblicato e voglio cercare insieme a voi di leggerlo perché quello che vi dicevo prima c'è stato tanto di positivo da parte di Agnelli come tanto di negativo sul finale però guardi il fatturato il fatturato è cresciuto certo che è cresciuto però guardiamo un attimo cerchiamo di ragionare perché arriviamo addirittura in positivo come risultato netto nel 2014 2015 quell'anno arriviamo a fare una finale di Champions League arriviamo a fare una finale di Champions League con 328 milioni di fatturato e un risultato netto di più due il che significa che lì si lavorava bene tutti con umiltà dalla parte di Andrea Agnelli che aveva ripreso una squadra la sua squadra la sua Juventus perché un Agnelli è un Agnelli come un Elkan sono parte della storia della Juventus la Juventus è roba loro è affare loro è affare di famiglia aveva ripreso la sua squadra disastrata da quello che era accaduto nel 2006 l'aveva riportata in alto l'aveva riportata a vincere era riuscito a rimettere in piedi anche economicamente la Juventus non solo sportivamente l'anno successivo 351 milioni di fatturati più 4 e poi cediamo Pogba che era stata un'intuizione geniale proprio di paratici con una cessione record al Manchester e lì cosa succede facciamo un'altra finale di Champions 422 milioni di fatturato addirittura un risultato utile netto di 43 però poi cosa facciamo iniziamo andare ad acquistare giocatori quindi quell'anno lì Pjanic, Higuain, Dani Alves e Quadrado che era stato riscattato dalla stagione precedente e tanti altri poi inizia quella stagione 2017-2018 quella post Cardiff dove in tanti dicono Allegri li si doveva dimettere bisogna cambiare secondo me lì è cambiata la Juventus non Allegri perché a me quella stagione comunque è piaciuta anche quel testa a testa col Napoli di Sarri fino all'ultimo è stato qualcosa che a me è piaciuto sinceramente lo dico proprio tranquillamente però iniziamo a fare degli acquisti un po' così po' così nel senso 40 milioni per Bernardeschi tieni 40 milioni per Douglas Costa tieni prendiamo De Sciglio sono degli acquisti che iniziano ad andare in una direzione molto preoccupante perché l'acquisto di Pjanic veniva visto come un wow spendiamo 35 milioni di euro per un centrocampista wow Higuain al posto di Pogba facciamolo lì perché ci serve la punta prima di quel momento gli acquisti andavano sui 15 18 20 milioni di euro al massimo da lì in poi iniziamo a spendere a spendere a spendere a spendere l'anno successivo addirittura l'acquisto di Higuain che due anni fa era cavolo vado a prendere Higuain perché arriva Ronaldo inizia a fare questo continuo questa continua evoluzione cercando di andare sempre più in alto ma in alto c'è il sole di Icaro e più che altro iniziano ad esserci delle gestioni difficili perché meno 19 meno 40 e poi arriva quella stagione lì che quella dove secondo me iniziano gli errori veri e proprio i macro errori perché questi sono errori ma comunque ancora accettabili nevi a Bonucci lo riprendi va bene d'accordo prendi Cancelo prendi Ronaldo proprio hai detto sai cosa all in vado all in e infatti poi arrivi a a dover per forza di cose fare un mercato con lo scambio Cancelo Danilo con due parametri zero che sono Rabiot e Ramsey che sono diventati dei veri e propri problemi per quanto riguarda poi la gestione dello stipendio nel futuro perché negli ingaggi molto pesanti l'accessione di Spinazzola per andare a prendere Luca Pellegrini per fare plus valenza per poi non dare mai probabilmente una vera e propria opportunità a Pellegrini se non l'anno scorso è stato poco utilizzato quest'anno mandarlo in prestito e poi rimandarlo alla Lazio lo incontreremo proprio stasera iniziano esserci delle cose che non tornano e qui Marotta se n'è andato e qui Paratici ha preso in la Juventus e qui Agnelli ha dato la Juventus in mano a Paratici probabilmente c'era una grande fiducia reciproca tra i due probabilmente poi questa fiducia reciproca è venuta sempre meno a un certo punto e probabilmente Agnelli voleva togliere Paratici dall'organigramma Juventus ben prima di quando poi è accaduto veramente ma doveva farlo per forza per riprendere dentro Allegri perché c'erano state delle differenze di vedute tra i due e quindi era impossibile tenere due galli in un pollaio arriviamo fino a quasi ai giorni nostri con un fatturato di 450 milioni con un risultato utile netto di meno 210 certo c'è il covid indubbiamente però abbiamo fatto il racconto adesso c'erano già delle operazioni che iniziavano a essere sospette quando ancora c'era Marotta quando Marotta poi se n'è andato sono diventate sempre più non lo so più pesanti più strane più impattanti e allora come le giustifichiamo con le plusvalenze che sono un metodo lecito e che non c'è un vero e proprio regolamento che ti dice che se comunque ne fai troppe è un problema può essere falso in bilancio ci sarà l'ammenda pecuniaria i punti per una roba del genere è una sorta di inedito però non voglio ripetermi perché questo è un video non su quello che non torna a me della questione legata al plusvalenza della juve ma su quelli che si commesso gli errori chiave della dirigenza che tante volte abbiamo accennato tante volte abbiamo elencato sto cercando di sistemare tutto in un unico calderone quindi come siamo arrivati qui delirio di onnipotenza da parte dei dirigenti della juventus non era solo il covid e lo sappiamo bene un'altra delle frasi intercettate e credo che anche questa torni ingolfata la macchina con gli ammortamenti e qua mi viene da dire che uno dei dirigenti che più è stato messo in sordina tra virgolette lasciato in sordina e che è stato dato probabilmente anche poco spazio all'interno della juve per come aveva interpretato tutta la situazione per come ha gestito tante cose perché il progetto dell'under 23 ora next gen è roba sua è federico cherubini federico cherubini che in questo momento viene visto come il cattivone perché ha scritto il libro nero di paratici ma io credo che cherubini l'abbia fatto in buonissima fede perché cherubini aveva capito che queste cose non andavano bene non andavano più bene perché lo dice la stessa sentenza le plus valenze ti danno un effetto immediato positivo ma poi ti vanno a penalizzare sul lungo ingolfata la macchina con gli ammortamenti cherubini che dice paratici era ossessionato al fare le plus valenze gli chiedevano di farle le faceva lui poteva staccare assegni poteva comprare i giocatori poteva fare acquisti fino a tot milioni poi tot di più uno andava dannelli tot più uno ancora andavi a chiedergli agli investitori però juventus non gli dava un freno non aveva un freno aveva pieni poteri cherubini addirittura in intercettazione dice arrivavo a casa avevo il vomito perché capivo che non era questo il modo di lavorare quindi dentro juventus c'era questa voglia da una parte di paratici di continuare questo modo superanti da parte di cherubini c'era una preoccupazione e diceva sì d'accordo le plus valenze però poi questo ci va a complicare sul lungo ci va a togliere potenza di fuoco sugli anni successivi questo è quello che sta accadendo banalmente alla juventus perché da anni non acquista più juventus non fa acquisti gli unici due acquisti da soldi che abbiamo fatto negli ultimi anni tre sono locatelli che lo paghi aratissime col sassuolo perché c'è questa volontà da parte di vento su sassuolo di continuare a fare delle collaborazioni che sono alla base di quello che poi è il discorso plus valenze e sono alla base di quella che è la realtà in italia nelle operazioni di mercato vlaovic che nasce da una doppia cessione bentancur kluseschi a gennaio e bremer che nasce da una macro cessione come quella di delit dove vai a reinvestire tutto il resto è contorno parametri zero come pogba di maria che hanno uno status un nome che possono dare una mano giocatori che hanno dei limiti fisici come può essere milic banalmente perché uno come milic senza problemi fisici non vale mai la cifra che ha pagato la juve per averlo tra prestito e riscatto o giocatori magari che sono ok come costic ma hanno già 30 anni questo è un po mercato della juve d'anni a questa parte o moise ken che deve andare a prendere l'ultimo giorno in mercato andarlo a strapagare perché sì perché ti serve perché ronaldo ti molla l'ultimo giorno e lui non sta facendo dei mercati clamorosi e non li sta facendo per questo motivo si era ingolfata la macchina per via degli ammurtamenti quindi queste plusvalenze che vengano fatte passare da parte di tanti tifosi che secondo me non hanno capito bene la situazione dicendo ma la juve senza quegli acquisti senza le plusvalenze non avrebbe potuto fargli acquisti la juventus ha avuto dei benefici dal punto di vista del campo per queste cose la juventus in questo momento è in braghe di tela la juventus in questo momento è nei guai perché ha fatto eccessivo ricorso alle plusvalenze è nei guai e ha dovuto fare 700 milioni di aumento di capitale che ha dovuto tirar fuori exor elcan di tasca da tasca da mettere dentro juventus se non è questa la certificazione che si è lavorato male a livello finanziario io non so cosa possa essere quante società nel mondo possono permettersi di di avere 700 milioni di euro cash immessi dentro come segnale di liquidità perché sennò senza quelli un disastro già quello è un campanello allarme fortissimo mi dice che la dirigenza di ventus precedente non ha fatto errori non so se è in mala fede o se non lo vuole semplicemente dire ma 700 milioni di euro ragazzi abbiamo visti adesso i fatturati è non c'erano questi problemi abbiamo voluto andare su abbiamo provato ad accelerare la tifosa sono contento di questa cosa abbiamo provato a vincere anche di più abbiamo provato a fare quel passo successivo non ci siamo riusciti abbiamo creato anche presupposti per arrivare in questa situazione che non significa che juventus poi sia colpevole effettivamente che si meriti 15 punti perché per quanto mi riguarda questo è un discorso a parte per me non nemmeno si merita quei 15 punti la classifica inflittiva afflittiva per me è una cosa che non riesco a comprendere sinceramente l'articolo 4 perché io ho fatto tante operazioni e quindi si è creato un sistema è una cosa che non riesco a comprendere sinceramente ma saranno i miei limiti e saranno cose che se saranno confermate verranno applicate nel ricorso se non ho quindi io credo che ci siano stati tanti tantissimi errori da parte di agnelli da parte di paratici alcuni concatenati alcuni indipendenti alcuni per via di me sembra di vedere che cherubini comunque sia stato uno dei più lucidi lì dentro e adesso in questo momento è costretto a pagare anzi io mi auguro che cherubini proprio perché come dicevo prima portato avanti anche il progetto next gen se in questo momento possiamo avere una sorta di paracadute per il futuro senza dover per forza passare al mercato e anche grazie soprattutto a federico cherubini mi dispiacerebbe vederlo uscire da juventus perché comunque un dirigente che juventus da anni ed è un dirigente che secondo me ha capito prima di tanti altri la situazione e ha provato a sistemarla anche magari tramite il libro nero dfp che in questo momento viene utilizzato come la prova principale la prova chiave di tutto il processo vediamo se se si risolverà o meno e vedremo poi sulla manovra stipendi vedremo poi sulla manovra stipendi perché lì io sono preoccupato da tempo vi ricordo che ho fatto un video che si chiamava cosa rischia la juve in cui vi raccontavo un po quello che avevo capito la situazione dicevo ma sulle plus valenza sono abbastanza tranquillo sui stipendi sono abbastanza preoccupato meno male che ero tranquillo sulle plus valenze però come dicevo anche ieri secondo me tramite il ricorso si riuscirà ad annullare poi nel caso contrario significa che sicuramente io non ho capito la situazione e non che che le cose sono sbagliate vediamo come come va a finire vediamo che cosa succede prossimo ma ci sono stati diversi errori ultimo ma non ultimo perché non l'ho ancora citato nel discorso che secondo me è stato veramente il punto di non ritorno per quanto riguarda Andrea Agnelli la superlega perché secondo me non è nemmeno sbagliato parlare di un'alternativa alla uefa perché in questo momento la uefa ha una sorta di monopolio e quello è ci sono stati tanti interventi come di Agnelli interessanti intelligenti nel corso degli anni come noi facciamo gli investimenti e poi magari una squadra come l'Atalanta un anno becca bene e va in Champions League magari una squadra come la Juve un anno becca male rimane fuori che tanti non hanno compreso non si diceva che l'Atalanta non doveva andare in Champions perché non è una storia ma semplicemente che le squadre di calcio sono aziende e fanno investimenti e se fanno investimenti il lato sportivo a un certo punto può venire meno perché magari una squadra quella stagione in particolare rende di meno mi basti fare l'esempio di Liverpool e Chelsea in questa stagione che non stanno andando bene e non penso che non stiano andando bene perché le squadre sono scarse ma perché semplicemente un anno o quell'altro le cose possono andare male succede nel campo da calcio le motivazioni gli incastri la sfortuna la forma fisica può essere qualsiasi cosa quindi Agnelli cercava una soluzione per dare una sorta di tampone un anno si può sbagliare come un anno si può far bene e se rimani fuori da le coppe hai meno introiti e quindi rischi veramente di mettere a serio a sé scusa scusate la ripetizione ma a rischio gli investimenti futuri gli investimenti che tu hai programmato anche per gli altri anni a maggior ragione se sei quotato in borsa agli azionisti un piano devi presentarlo quindi questo era un po' il discorso un altro discorso che condividevo era UEFA però non si assume il rischio perché noi acquistiamo i giocatori gli paghiamo gli ingaggi se si fanno male UEFA comunque ha l'esclusiva della partita non c'è quel determinato giocatore ma noi quel giocatore l'abbiamo pagato abbia gli stipendi loro non si assumono il rischio mettano solo la vetrina anche questa è una considerazione siccome intelligente così come intelligente siccome è una considerazione di voler avere anche un piano alternativo alla UEFA per mettere a risalto le maggiori squadre al mondo così come creare una competizione di maggior livello come può essere effettivamente una Superlega che non deve per forza essere Superlega perché lo sapete bene secondo me l'idea di una Superlega o di una competizione alternativa alla Champions è perfetta l'appoggio perché il calcio così come quello che conosciamo oggi non so quanto altro potrà durare ma non può essere che alcune squadre partecipano sempre alcune entrano in rotazione quella per me è la morte del calcio la meritocrazia nello sport ci deve essere e quindi andrebbe rivista la cosa che critico della Superlega è come ce l'hanno presentata il fallimento mediatico impressionante forse anche imbarazzante che c'è stato è stata una roba ragazzi che io ogni tanto ci ripenso e dico ma come hanno fatto a fare una figuraccia così grande poi ieri l'altro ieri qualche ora fa abbiamo avuto la notizia che le squadre non saranno punite per quanto riguarda la Superlega però attenzione che ci sarà anche da discutere con la UEFA per altre irregolarità presunte da parte di Juventus e si mormora non è una notizia ufficiale ma si mormora che la UEFA potrebbe chiedere al Juventus di uscire dalla Superlega in cambio di tra virgolette una chiusura di un occhio vediamo cosa succederà a me sinceramente che rimangano dentro e escono dalla Superlega mi frega poco interesserebbe di più invece vedere che tante squadre possano mettersi a collaborare per rendersi veramente conto che se no così è un problema guardavo un po' i dati delle sessioni invernali calcio mercato in Italia e nelle altre legge non si è mosso praticamente niente da nessuna parte Serie A poco e niente Spagna poco e niente e poi arrivi guardi l'Inghilterra che quella è una vera e propria Superlega lì è stato impressionante ho trovato questo grafico che ho condiviso l'altro giorno su Twitter ho guardato un po' in blu sono gli acquisti i milioni di euro spesi nella sessione invernale calcio mercato in Premier League sono 815 815 con 1965 spesi invece in estate stiamo parlando di 2780 milioni di euro spesi tra sessioni estiva invernale in Premier League io guardo il grafico della Premier della crescita della Premier dal 2003 2004 al 2022 2023 qualcosa di incredibile i maggiori campioni giocano lì i maggiori manager allenano lì le squadre possono vantare veramente un potenziale economico impressionante i diritti televisivi sono altissimi contro i nostri che sono bassissimi gli stadi sono perfetti tenuti bene curati il pubblico da quando c'erano dei problemi pesanti pesantissimi in Inghilterra di huligan o comunque di ultra di un certo tipo sono stati abbastanza risolti quindi secondo me è veramente quello che dobbiamo sperare di ottenere un giorno ma ad oggi a me sembra semplicemente un'utopia sembra un'utopia perché perché l'investitore oggi dovrebbe venire ad investire sulla serie A che continuiamo a farci la guerra tra di noi a vicenda sempre il dito puntato su quell'altro perché l'investitore dovrebbe venire a investire sulle infrastrutture sugli stadi italiani poi c'è problema tra virgolette della lingua italiano non è l'inglese indubbiamente ma credo anche che il campionato di serie abbia meno appeal la premier league nasce nel 92 decidono di mettere da parte il campionato inglese di quel momento e di rinegoziare alcune cose tra cui i diritti televisivi per cercare di ottenerne di migliori e cercare di dare una sorta di spinta e di crescita maggiore al calcio inglese loro che dicono di aver inventato il calcio loro che per fortuna in casa hanno perso una finale dell'europeo contro l'italia ma loro che in questo momento ci insegnano ci strainsegnano come si fa loro possono permettersi di fare queste spese folle 815 milioni a gennaio 3000 milioni di euro in due sessioni mi viene da ridere perché mi sembra di giocare a fifa nella carriera allenatore ma è meritato loro si sono creati questa cosa si sono attirati gli investitori non pensiate che ci sia ogni squadra posseduta dall'inglese di turno che ti fa la sua squadra questa è una fortuna che ha la Juventus io credo che sia anche una fortuna in questo momento avere Exor alle spalle perché torno a ribadire tanti mi stanno dicendo eh ma Elkan nel 2006 non ha difeso era complice ha voluto far andare in B la squadra io questo ragazzi non lo so non ho seguito Calciopoli avevo 14 anni sono cose che non posso per forza di cose raccontarvi ma mi viene naturale pensare che se uno mette 700 milioni di euro dentro la Juventus nel giro di qualche anno per non farla fallire a tutto che tranne che l'interesse di farla andare nuovamente in B o di abbandonarla a se stessa magari la vuole sistemare per rivenderla io questo non lo so Elkan l'altro giorno ha detto di no sono abbastanza convinto però che abbia a cuore la Juventus sono abbastanza convinto anche che in questo momento il tifoso della Juventus debba mandare giù dei bocconi amari perché ad oggi dentro la Juventus lato calcio non c'è tutta questa priorità ci sono poche figure di sport un appunto è Cherubini ora c'è Calvo che non so quanto possa essere effettivamente dentro l'area sport bisogna aspettare bisogna aspettare di capire purtroppo i tribunali le sentenze prima che il campo e poi capire come si andrà a ricostruire questa Juventus io non credo che l'era di Andrea Agnelli sia definitivamente finita qui non lo credo perché comunque lui fa parte di Exor fa parte di Juventus e ancora dentro Juventus non so se rientrerà adesso domani a breve fra 20 anni tra 10 anni secondo me non è finita qui non è finita qui e lo rivedremo io vorrei concludere questo video dopo aver detto tante cose e forse non aver nemmeno detto niente ripetendo secondo me il concetto fondamentale che sta alla base del mio ragionamento sono stato tanto fan del primo Agnelli quanto deluso dal secondo perché è ovvio che se ci troviamo in questa situazione è perché ci sono stati degli appigli a cui sono potuti arrivare proprio per indagare proprio per andare a fondo di alcune questioni dove possono anche avere fatti furbi non lo escludo la questione di stipendi ripeto mi preoccupa tantissimo sulle plusvalenze credo che abbiano volutamente fatto quello che hanno fatto mi sembra un po' tutto abbastanza astratto poco di concreto in questo momento ma vedremo abbiamo un ricorso tra un mesetto sentivo l'altro giorno un podcast e mi dicevano se ti dico che il diavolo esiste e te lo dicano due persone uno è credente e uno è ateo a quale credi di più? dovresti credere più al credente perché è quello che ha maggior cose da perderci e io ve l'ho sempre detto anzi se andate a rivedervi quel video di Pirlo fa veramente ridere perché mi riguarda in questo momento e dico beh Luca mi dispiace deluderti mi è andata abbastanza diversamente e dico ho fiducia io è Andrea Agnelli ho fiducia nella sua scelta a volte è stato lungimirante anche quando non sembrava se l'ha scelto è perché c'è un motivo parliamo di tre anni fa due anni e mezzo fa è cambiato il mondo quindi in questo momento sono io l'ateo che vi dice che c'è il diavolo e sono io che c'ho da perdere perché ancora per la terza volta sono stato tanto fan del primo Agnelli quanto deluso dal secondo dall'ultimo e dal termine della sua presidenza grazie grazie